La preghiera cristiana Di Padre Livio, edizioni su Garco Noi proseguiamo con una serie di meditazioni sulla preghiera perché non vi è dubbio che se i ragazzi, se i giovani conservano la preghiera e riescono a dedicare ogni giorno un piccolo spazio alla preghiera sicuramente riusciranno a tenere viva la fede naturalmente per preghiera intendo prima di tutto la preghiera personale perché è quella che è più alla portata di mano e la possiamo fare in qualsiasi momento della giornata specialmente al mattino quando iniziamo la giornata poi alla sera quando andiamo a letto la possiamo fare anche durante il giorno quando abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio e poi ovviamente ragazzi giovani ricordatevi che però il colme della preghiera sono i sacramenti cioè quindi vorrei proprio indicarvi come cuore della preghiera la Santa Messa la Santa Messa domenicale in particolare e santificare la domenica con la Messa e poi ovviamente anche l'altra preghiera sacramentale che deve far parte della vostra vita quotidiana che è la confessione se voi attingete a questa fonte di grazia che è la preghiera personale e ecclesiale sicuramente non perderete la fede anzi la fede sarà per voi diciamo una luce che vi guida che vi illumina e che vi dà forza nella vita nelle difficoltà della vita e anche nel superamento di tante difficoltà che ci sono oggi cari amici vorrei focalizzare la vostra attenzione su questo tema e cioè molte volte si dice che la preghiera è un perditempo in fondo conta più fare che pregare come se la preghiera fosse una forma di passività e questo è un grave errore cioè fra tutte le attività della giornata che noi possiamo fare e ovviamente anche voi ragazzi fra la scuola lo studio tante attività sicuramente siete molto impegnati durante la giornata però vorrei dire che fra tutte le attività la più importante è la preghiera cioè fra tutte le cose che bisogna fare durante la giornata quella che non bisogna mai trascurare per nessun motivo è proprio la preghiera perché? perché la preghiera non è un atteggiamento di passività cioè pregare non vuol dire non lavorare no? per cui diciamo tutti quelli che sono allora nell'eremo o che sono pensate ai padri del deserto no? o che sono nelle claustrali che sono nei conventi eccetera e che dedicano la loro giornata anche la loro notte alla preghiera guardate che sono in uno stato di massima attività di massima attività e anche sono le persone più importanti più necessarie che possa avere il mondo con la loro intercessione perché sono come i parafulmini che ci sono sulle nostre città queste ose di preghiera dove le persone appunto si ritirano e tengono accese queste luci che illuminano le tenebre di questo mondo che è un trita carne che ci stritola in tutti gli impegni che abbiamo a che fare durante la giornata allora vorrei mettere a fuoco questo che nell'organizzazione della giornata bisogna bisogna dare la prima importanza alla preghiera cioè come dice la regia della pace mettete Dio al primo posto cosa vuol dire mettete Dio al primo posto vuol dire mettere la preghiera al primo posto allora bisogna organizzare la giornata con i momenti di preghiera momenti in cui incontrare Dio momento in cui stare a tu per tu con Dio momenti in cui vedere se stessi la propria situazione di vita e anche le attività che ci attendono nella luce di Dio ora fare questo all'inizio di ogni giornata è fondamentale perché tu già all'inizio organizzi la tua giornata a partire dal punto di vista di Dio gli chiedi la tua luce per fare discernimento su tante cose che devi fare su come devi farle su come devi comportarti e alla fine della giornata la preghiera è importante per valutare quello che hai fatto per vedere dove hai sbagliato per vedere dove devi correggerti e quindi per fare un bilancio della tua giornata in questo modo la tua giornata che molte volte ti porta fuori diciamo così dal raccoglimento perché sappiamo com'è la vita no? con tutte le sue ansietà e le sue problematiche ma in questo modo la tua giornata incomincia con Dio e finisce con Dio e così il tempo è redento cosa vuol dire che il tempo è redento perché il tempo che è nella luce di Dio diciamo così è un tempo salvato è un tempo che non vale nulla non è un tempo che si dissolve e mai più ritorna ma tutto quello che hai fatto incominciando la giornata con Dio e finendo la giornata con Dio tu l'hai scritto per l'eternità per cui anche tutte le altre attività che sembrano profane no? in realtà fatte nella luce di Dio per realizzare la volontà di Dio per adempere la missione che Dio ti ha dato per far fronte ai tuoi doveri i tuoi doveri di giovane di figlio di fidanzato di padre di famiglia di madre di famiglia di lavoratore facendo fronte a tutti i tuoi problemi tu in questo modo diciamo così scrivi scrivi la storia della tua vita non sulla sabbia dove un'ondata la può cancellare ma la scolpisci sulla roccia nei libri dell'eternità allora quello che vorrei dirvi ragazzi è che la preghiera deve illuminare tutta la giornata deve illuminare tutte le attività cioè chi prega lavora meglio ve lo dice uno che comunque diciamo così avendo a che fare con questa struttura enorme che è Radio Maria diffusa in tutto il mondo diciamo con tutto ciò che comporta di attività però io vi dico la verità se mi carico al mattino con la preghiera la tengo vivo per tutta la giornata e poi alla fine della giornata faccio una un breve resoconto davanti a Dio vedendo ciò che ho fatto bene ciò che non ho fatto bene vedendo come mi devo migliorare poi io vado a letto nella pace di Dio e dormo come un pezzo di legno come ama dire il Papa di se stesso no? e quindi posso testimoniare ma quanti potrebbero testimoniarlo che chi prega chi prega fa meglio le cose le cose di ogni giorno perché perché ha più sapienza e più discernimento allora questo è il primo messaggio che vorrei darvi cari amici per quale motivo per quale motivo per quale motivo succede che gli uomini di preghiera sono stati dei grandi realizzatori voi pensate per esempio non so gli uomini di preghiera un san benedetto uomo di preghiera come ha praticamente creato quell'organizzazione monastica che ha permesso a tutto l'occidente di diventare cristiano e di sopravvivere alla caduta dell'impero romano e così potrei portarvi tanti altri esempi sono infiniti gli esempi di grandi santi che sono stati grandi realizzatori perché erano uomini di preghiera allora per quale motivo essere uomini di preghiera significa anche essere uomini di azione il motivo è questo perché nella preghiera tu incontri Dio ricevi la luce di Dio ricevi la sapienza di Dio conosci la volontà di Dio ricevi la forza di Dio ricevi il coraggio di Dio vorrei proprio analizzare ognuno di questi aspetti perché così vi renderete conto come sia importante nella vita non farsi prendere dagli ingranaggi e dagli impegni che molte volte vi fanno esaurire vi diciamo così arrivate alla sera che siete degli stracci no? ebbene prima di tutto nella preghiera la preghiera infonde la luce della sapienza cioè tu nella preghiera impari a fare discernimento a vedere le cose che vanno fatte quelle che non vanno fatte e le cose che vanno fatte in quale modo farle quali sono quelli importanti quali sono quelli meno importanti cioè hai una luce interiore con la quale fai discernimento e anche impari nella luce di questo discernimento a valutare le cose per quello che sono per cui tu avendo la luce della sapienza non ti perderai in problemi stupidi non ti farai arenare in pozzangre di 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 fango dove rischi di annegare dentro tu stesso scegli il campo di battaglia non vai a combattere dove il demonio ti chiama a combattere così ti fa perdere tempo e ti fa perdere anche la battaglia ma tu scegli le cose importanti scegli i noci della questione scegli i campi di battaglia scegli le persone da frequentare scegli quelle da evitare il discernimento è come il volante della macchina cioè senza discernimento uno viene sballottato qua e là dalle false luci dalle false attrazioni dai falsi amici è tutto una cioè rischiamo di essere come delle foglie secche che il vento trascina qua e là nella preghiera con la luce della sapienza che Dio ti dà tu fai le cose che contano durante la giornata e devi fare le cose che non contano vedi le trappole del demonio vedi il campo dove Dio ti manda seminare questo è molto importante perché così non cadi negli inganni non cadi nelle trappole del demonio non perdi tempo non ti impantani e quindi guai se ci mancasse la luce della sapienza nell'attività della nostra giornata e della nostra vita insieme alla sapienza Dio nella preghiera ti infonde la fortezza cioè noi vediamo che molte volte il diavolo ha una tattica che è tremenda cioè il diavolo ti smonta con lo scoraggiamento ti smonta con la paura per cui tu poi non osi più non agisci più non hai coraggio di fare certe cose ti tiri indietro ti nascondi sei timido molte volte sei vile a volte sei pure vigliacco perché perché hai paura perché il demonio riesce a paralizzare le persone con la paura ma molte volte ci sono quelli che dicono non ho paura e dicono di essere audaci però attenzione cari amici c'è anche l'audacia degli stolti cioè di chi affronta il nemico poi le busca le prende perché come dice Gesù no tu non affronti un nemico che ha 20.000 uomini e tu ne hai solo 10.000 quindi nella preghiera tu hai la luce della sapienza e la fortezza quella di Davide che nel nome del Signore affrontò il gigante Golia e lo colpì e lo uccise questo per dire che con la preghiera tu sei capace di compiere opere straordinarie audaci con la luce di Dio e con la forza di Dio senza cadere nella temerarietà oppure nella tracotanza di chi si crede forte con la preghiera tu liberi te stesso da tante paure ma anche da tante schiavitù perché ricordati che la tua giornata la tua vita è corrosa dai vizi è corrosa dalla schiavitù cioè se tu nella preghiera non riesci a liberarti da tante schiavitù che ci sono la schiavitù delle passioni della supermerizia della lussuria e così via dell'ira se tu nella preghiera non riesci a dominare te stesso se tu non riesci a mettere le redini al tuo io se tu come diceva Platone non riesci a guidare i due cavalli che sono quelli irrascibile quello sensibile cioè quello dell'ira quello che ricerca il piacere se tu non sei capace di fare questo diventi schiavo diventi schiavo di te stesso sei una persona in balia dalle passioni la preghiera rende gli uomini lucidi li rende calmi li rende capaci di prendere decisioni ponderate per cui non fai errori per cui non sei uno che il diavolo tiene a guinzaglio con i suoi vizi i vizi che tu coltivi dentro di te e che porta dove vuole nella preghiera nella preghiera si prende il coraggio per le grandi imprese cioè molte volte dico grandi imprese per dire le decisioni importanti della vita cioè ci sono della vita nella vita molte volte ci sono decisioni importanti dalle quali dipende la tua vita voi ragazzi per esempio nel piccolo avete queste decisioni quale ramo di studi prendere per dire sto in casa non sto in casa vado all'estero faccio qua faccio là oppure mi dedico a questa attività oppure scommetto su questa strada che mi porta chissà dove cioè nella vita cari amici si presentano a noi molte opportunità è importante avere la luce del discernimento ma anche il coraggio di prendere decisioni ma questo cari ragazzi è quello che manca alla vostra generazione che non siete capaci di prendere delle decisioni per cui la tirate per le lunghe con l'università non la finite mai e poi non sapete quale lavoro prendere e poi non sapete quale ragazza sposare e poi arrivate a 50 anni e ora andate in pensione avete pazienza ma nella vita nella vita bisogna avere il coraggio di fare delle scelte però devi fare delle scelte ponderate con discernimento ma queste le puoi prendere nella preghiera nella preghiera costante nella preghiera in cui le scelte le fai maturare pian piano dentro fino a quando non ti risultano chiare fino a quando tu non sei deciso ma sapeste cari ragazzi cari giovani quanti momenti della nostra vita fare una scelta può essere dipende da che scelta fai può essere la vita o la morte può essere la vita se è la scelta giusta può essere la morte se è la scelta sbagliata allora in questi momenti cari amici tu hai bisogno della luce di Dio per il discernimento ma hai anche bisogno del coraggio che lui ti dà per fare delle scelte con le quali costruisci la vita diversamente si trascina non si arriva davanti un fosso tu immagina che stai facendo immagina cioè non è che immagina la vita è un pellegrinaggio al nostro momento di questo pellegrinaggio tu hai un fosso da saltare diciamo che è un fosso di 4 metri diciamo allora tu dici salto o non salto salto o non salto tu rischi di passare la tua vita lì davanti a quel fosso dicendo salto o non salto e così la vita esaurisce ma tu invece nella preghiera devi chiedere la luce di Dio e la forza di Dio e poi decidere lo salto e se lo salti con decisione arrivi anche a saltare 4 metri o anche di più questo ve lo dico ragazzi perché molte volte voi vi arenate nella vita perché non avete il coraggio di prendere decisioni ma chi prega ce l'ha questo coraggio nella preghiera qui vorrei sentire anche un po' sul piano psicologico perché noi siamo affletti da tante amarezze nella vita da tante tristezze da tante delusioni molte volte siamo scoraggiati siamo la generazione diciamo così delle persone che sono esaurite no? e quindi questo avviene non soltanto per le persone avanti negli anni ma anche per i giovani no? e vi assicuro che non c'è cura non c'è psicologo che curi meglio della preghiera per quanto riguarda le nostre amarezze le nostre tristezze e le nostre depressioni mi è piaciuto molto il titolo di un libro che suonava così il mio psicologo è Gesù cioè veramente questa è una condizione diciamo così di vita che abbiamo cioè tante delusioni voi ragazzi avete tante delusioni di ogni genere delusioni per gli studi perché non trovate perché non riuscite perché non trovate il lavoro perché non riuscite a sposarvi non trovate l'immagine della vostra vita molte volte vivete in una situazione di depressione no? ma va sicuro che non c'è nulla più della preghiera che riesce a dare la pace che riesce a dare la serenità che riesce a dare la gioia che riesce a dissipare le tene le nebbie che ci sono che riesce a farvi vedere le cose viste dal punto di vista di Dio perché le cose viste da noi molte volte sembrano impossibili le cose viste dal punto di vista di Dio diventano possibili sono più serene i sentieri nella luce di Dio diventano praticabili anche quando sono in salita nella preghiera ragazzi quando avete avuto qualche disastro nella vostra vita o perché l'avete fatta grossa voi o perché vi è caduta una cosa grossa addosso o perché siete caduti o comunque siete in una situazione non di disagio ma di disperazione allora ricordatevi che non c'è nulla di più importante in questi casi quando sembra che tutto vi crolli addosso non c'è nulla di più importante di mettersi davanti a Dio di vedere diciamo così e di di vedere e di pensare che in fondo la nostra vita è nelle sue mani e che Lui può aiutarvi in tutto che Lui può concedervi tutto e che a Lui potete chiedere tutto e per cui anche delle situazioni nelle quali sembra che non vi sia una via di uscita voi la trovate la trovate la via di uscita anche nelle situazioni più tremende perché perché una delle diciamo così delle grazie che Dio fa è proprio questa che a un momento tu dici per me è finita ci sono dei momenti in cui nella vita vi accadono delle cose così gravi che uno dice per me è finita ebbene sappiate cari amici che per te è finita ma Dio ti dà sempre una via di uscita ti indica sempre una strada se sei caduto in fondo al pozzo ti tira fuori se tu hai fiducia in Lui quindi non c'è situazione di vita nella quale Dio non riesca a darti una mano non riesca a rimetterti in piedi e a farti di nuovo camminare quindi vedete ragazzi che è sbagliato con la mentalità per cui diciamo così la preghiera è quasi una cosa inutile e a cosa serve pregare beh vi dico cari amici chi dice così è perché non ha mai pregato veramente ma per chi prega veramente col cuore sa che non c'è nulla di più importante della preghiera cioè il motivo è molto semplice perché quando tu non preghi sei da solo se sei da solo sei pieno di limiti e sei in balia di vicende che molte volte tu non riesci a dominare non riesci a controllare quando tu preghi Dio si avvicina a te Dio ti ascolta Dio ti dà una mano Dio ti dà la luce e la forza per risolvere le situazioni più difficili e quindi e quindi noi abbiamo bisogno della preghiera proprio della preghiera quotidiana della preghiera che illumina la giornata che ti dà forza per realizzare la volontà di Dio nel corso della giornata che ti solleva quando cadi che ti consola quando sei nella tristezza che ti dà coraggio quando serve il coraggio quindi non dobbiamo meravigliarci cari ragazzi se nella se noi troviamo effettivamente che anche i grandi realizzatori i grandi uomini di azione pensiamo i grandi santi sono persone che sono persone che hanno hanno realizzato cose grandi mi viene in mente in questo momento siccome si sta parlando in questi tempi e anche qui a Radio Maria della causa di beatificazione di uno dei grandi fondatori della Unione Europea che fu Schumann il francese Schumann del quale è un politico quindi come politico era un uomo di azione evidentemente di cui c'è la causa di beatificazione ebbene cari amici voi non sapete questo forse che Schumann preparò l'idea di Unione Europea e l'architettura dell'Unione Europea attraverso un mese di esercizi spirituali alla Salette in quel santuario meraviglioso nelle montagne nel silenzio di quelle montagne di quelle vette Schumann ideò il grande ideale dell'Unione Europea ed è anche abbastanza sintomatico il fatto che anche gli altri due personaggi che hanno concepito l'Europa non quella che è venuta dopo ma quella che è stata concepita all'inizio cioè come un'Europa cristiana cioè Adenauer da una parte e De Gasperi dall'altra anche questi due erano due grandi cattolici anche per questi due c'è la causa di beatificazione questo per dire che non c'è attività umana in cui la preghiera non sia feconda e non c'è diciamo così impresa che la preghiera non riesca a ispirare e che la preghiera non riesca a realizzare per cui per finire cari amici questa prima parte della nostra meditazione vorrei darvi un suggerimento molto molto concreto e cioè sappiate che è una stupidaggine permettetemi questa espressione pensate che la preghiera sia un perditempo non c'è nulla di più importante della preghiera mettete nella vostra vita e nella vostra giornata la preghiera al primo posto ma attenzione non significa mi dico le preghiere del mattino mi dico le preghiere della sera vado a messa la domenica Dio al primo posto no deve essere la preghiera fatta col cuore cioè tu devi incontrare Dio nella vita e rincontrarlo continuamente durante la giornata in questo modo le cose le fai con la luce di Dio con la forza di Dio che Dio ti dà e con la sua grazia questo deve quindi essere il vostro proposito il vostro impegno proprio questo di versi che la preghiera sia la luce della vostra giornata sia la vostra forza sia diciamo così il vostro riposo perché la preghiera è anche un riposo il riposo in Dio allora se fate questo non solo ragazzi sarete dei buoni cristiani ma sarete anche degli ottimi come dire non so come chiamare professionisti cioè gente che nella società è affidabile è credibile perché perché sa fare perché è seria perché non conta storie perché non inganna perché è coraggiosa perché è generosa noi abbiamo bisogno di queste persone nella società ma per far questo occorre essere persone di preghiera cioè cercare Dio in continuazione e nutrirsi di Dio e così potremo fare cose meravigliose diciamo così nella nostra vita e terminiamo cari ragazzi questa prima parte della nostra meditazione con un brano che prendo dal mio libro Senza preghiera non puoi vivere siamo a pagina 43 e scrivo fai precedere ogni tua attività dalla preghiera a risveglio passi la segna nella luce di Dio tutto il lavoro della giornata comprese le cose apparentemente più insignificanti ti assicuro che lo realizzerai con lucidità e un'energia che ti lasceranno stupito infatti non lo apri da solo ma con l'aiuto dell'Onipotente lui ti illumina con la sua sapienza infonde forza nelle tue decisioni ti sostiene nelle asperità ti rende impermeabile ai dardi infuocati del nemico e porta a compimento ogni cosa cui poni mano sappi che non vi è nessuna situazione della vita in cui Dio non possa intervenire per aiutarti ciò che agli uomini appare impossibile è sempre possibile a Dio anche quando non vede nessuna via di uscita Dio non ha difficoltà a indicartene una i problemi insoluti per gli uomini o insolubili sono nulla per la Divina Onnipotenza devi essere consapevole di questa arma invincibile che Dio ti ha messo in mano la puoi adoperare in qualsiasi momento perché ogni volta che tu ti rivolgi al Padre Celeste Egli ti ascolta nelle situazioni più disperate laddove anche i tuoi amici più cari non possono far nulla anche volendolo tu in Gesù hai un amico pronto a intervenire in tuo favore La preghiera cristiana di Padre Livio Edizioni Sugarco 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 Grazie a tutti